chiamo qui come terzo massimiliato della valenturia aerea compatti massimiliano muratore centro sub centro del anzio bravo Miano aspetta 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 e tanto bacino benedato secondo presionato Vito Cuzzetta lega a livello suon 1.313 punti campionessa italiana categoria aerea compatti del 34esimo campionato italiano individuale di Safari Motosub Martina Gamirasi maglietta, targa e la foto con la mamma sul cuore prima la maglietta prima la maglietta foto per la mamma sul cuore 1.3 via mano sul cuore e fuori un pezzettino quinto Giuseppe Pagliuso prem sum 6 di levante 1.898 punti quattro classificati Simone Marassini prem sum 6 di levante 1.918 punti siamo sul podio il terzo posto Nicola Largo Già Caposto ed è con piacere che vedo ravvicendarsi di nuovi di nomi nuovi perché Ciro Gaudino sempre del centro e vince il 34esimo campionato italiano di Milona Safari Motosub a Punea Comparte Giancarlo Crimaldi lei è una valla di Bonsuoli la pancia quella è sulla pancia quella è la mano sulla pancia scendo massimilato a Paolo Tassiasi Marassini non consigliato Paolo Tassiasi Cicca Sub Pugnias se ha fatto 1.364 punti decimo classificato Carmelo Nguardo in Rosso di Catania 1.488 punti Gabriele Dalongu Posei Continu sorrendo a 1.534 punti ottavo classificato Nino Caserno Rosso di Catania 1.574 punti settimo Roberto Taccino Cicca Sub Pugnias se ha fatto 1.740 punti sesto Francesco Fredi CRS San Paolo Messina 1.916 punti quinto classificato Claudio Zoni Ghisleri su Trieste 1.950 punti quarto classificato Massimo Corrani con Massimo Corrani Cicca Sub Pugnias Pugnias 2.034 punti il terzo classificato è Mauro Pugnias al secondo posto vice campione quindi della categoria ARA Master non che è non new entry new return se vediamo Daniele Lombroso Cicca Sub Pugnias 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 di San Paolo di San Paolo di san Paolo di San Paolo di Garia ARA Master Giampiero dei Mori il trattato castiglio assoluto, intanto è anche il primo della classifica assoluta di questo periodo. Se volete, ma verrete la prevenzione, fare i complimenti a Gian Piero che conferma per il secondo anno un piaceremo prestigioso. Io vi anticipo che adesso noi sospenderemo la prevenzione per un premio di questo, dopodiché torneremo un po' su perché c'è da assegnare i premi delle foto speciali e i premi degli sponsor a partecipare a questo campionato. Allora, vedete lì un attimo. Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Tirla, tirla, tirla. Osvaldo! No, 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 no. Fa tutto.